E' stato inaugurato oggi pomeriggio il Christmas Village di Voghera, una tre giorni di eventi organizzati in collaborazione con Acol che si svolgeranno in Viale Marx all'interno del tendone allestito dalla Croce Rossa. Presenti al taglio del nastro anche l'assessore alla cultura Marina Zaretti e l'assessore alla famiglia Solidarità Sociale e Volontariato Simona Virgilio. Cosa ci aspetta in questi tre giorni? Questa è una stupenda iniziativa creata in collaborazione in sinergia con Acol e con la Croce Rossa. E' un ulteriore momento di aggregazione per socializzare, per stare insieme. Si esibiranno diverse realtà artistiche della nostra città, è un momento natalizio per festeggiare insieme. Ci sono anche dei banchetti, quindi anche un piccolo mercatino, un mercatino interno naturalmente di beneficenza che comunque accompagna quelle che sono tutte le altre iniziative natalizie. Infatti in Piazza Duomo c'è il mercato di confese e arcenti, poi tutte le altre iniziative attivate dai commercianti e con i commercianti. Ha una finalità benefica il Christmas Village, appunto in collaborazione con la Croce Rossa italiana. Il Comune ha dato il patrocinio a questa iniziativa, quindi ha collaborato. C'è una finalità benefica, appunto vengono raccolti beni che poi verranno distribuiti questo d'opera dei commercianti. Ci sono diversi espositori all'interno del padiglione e quindi il Comune, come dicevo, ha dato sicuramente il patrocinio. Ci saranno poi dei canti, gospel, dei momenti di intrattenimento di bambini con l'asilo Caroli e tante altre attività. Quindi un modo per coinvolgere i cittadini anche in questo periodo natalizio. Esatto, quindi per la famiglia, io sono ossessore alla famiglia, è un ottimo momento di ritrovo in attesa del Natale, quindi in questa atmosfera natalizia.